Ciao raga, oggi vi faccio vedere che uso nella mia borsa, che in realtà di solito uso quelle piccole, però questa la uso specialmente per andare dal mio ragazzo, quindi ora vi mostro. Come prima cosa, che però non c'è sempre, il mio computer, perché a volte ci mettiamo a guardare dei film, a editare i nostri video, quindi ieri l'ho portato. Poi ho il mio beauty case per i trucchi e anche questo per la skin care, che in realtà non ci sono tutte le cose qua, alcune sono qua dentro, perché non ci stavano. Comunque tonico, contorno occhi, primer, crema idratante. Poi dentro qua ho un altro siero, questo è il mio... Ho fatto un casino. Comunque, beh, questi sono tutti i miei trucchi che porto. Lo struccante no, perché ce l'ha già la sorella di Puccio. Poi cicche, spazzolina, qua ho tutte le mie tessere varie. Lo specchietto, poi il mio portafoglio, più o meno. Ed infine profumo al cocco, il mio preferito. E le salviette igienizzanti, perché io prendo i mezzi e mi fa troppo schifo.